È doveroso essere qui presenti stamani a sostenere le istanze di chiarezza che stanno portando avanti i dipendenti dato che manca il 40% dello stipendio di luglio e per intero quello di agosto. È stato richiesto un incontro da parte dell'RSU, dell'Organizzazione Sindacale dei Lavoratori e ad oggi non è stato fissato da parte dell'azienda. E anche questo, un'impresa può anche vivere dei momenti di difficoltà, ma un conto è affrontarli insieme nella doverosa chiarezza. Un altro è tenere questo tipo di comportamento. Credo probabilmente sia opportuno anche riaprire un tavolo davanti alla regione in modo tale che perlomeno questo incontro avvenga e si possano avere le risposte in merito a quello che sta accadendo e a quelle che sono le strategie future, mi sembrerebbe il minimo.